Forza, tirate su il panzone, tirate su il panzone! È una piaga questa, è straziante così. Ah ma boh, è cascato un altro, è ricaduto il panzone. Panzone, forza! Ma non ci credo! Ma avete risolto? Ma me che te... bene, bene. Allora, ricominciamo. Avanti! Coraggio, 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 coraggio! Bravo! Forza, forza, forza! Ok. Ari, eccola. Bene. Dov'è il panzone? Coprite la signora! Panzone! Ma non mi sente, è preso dalla gara. Avanti, veloce adesso. Veloci, veloci. Bravo, vada, 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 vada. Avanti. Venga giù, chiappe d'oro. Eccola qua. Forza, forza! Avanti. Forza. Lanciatevi! Non perdete tempo! Il tempo vi è nemico! E adesso penso alla prossima tappa. Ecco, indossate i giubbetti che non si sa mai dovesse affogare in un metro d'acqua. Adesso dovete attraversare, dovete attraversare questo mondo stretto e infido. No! Allora! No! No! Grazie.